siamo con franco fragassi scrittore giornalista d'inchiesta per qualche anticipazione circa il nuovo lavoro che stava ormai ultimando e cioè il libro scritto a quattro mani con elio lannutti sullo scandalo del monte paschi di siena alla luce dei documenti che avete raccolto finora quali gli aspetti diciamo più significativi dei rapporti tra monte paschi di siena e politica che possono essere utili a capire meglio la gravità di quanto accaduto allora il monte dei paschi era una banca totalmente politicizzata perché era controllata dalla fondazione della fondazione monte dei paschi e il consiglio di amministrazione della fondazione era nominato dal comune di siena della provincia di siena dal dall'università dalla curia e dalla regione quindi sostanzialmente il il pds poi di esse poi il pd controllavano politicamente la fondazione e quindi avevano una maggioranza di azioni del monte paschi in realtà la cosa un po più complessa perché siena è sempre funzionato il una sorta di di accordo trasversale di quanti partiti l'hanno soprannominato il groviglia armonioso e la banca il monte dei paschi fino a più o meno la metà degli anni 90 era una banca democristiana non era una banca nonostante questa direzione qui era una banca democristiana una banca socialista i comunisti non c'entravano nulla poi il pd si è impossessato della banca e dall'inizio degli anni 2000 ha incominciato a reinserire uomini del centro-destra all'interno della governance della banca tant'è vero che verdini aveva ottime insomma molte dei suoi affari le ha fatti con monte dei paschi insomma era un personaggio di riferimento del monte dei paschi per quanto riguarda il centro-destra però esiste una persona che ha ancora di più a che fare col monte dei paschi un politico che quello forse che ha giocato di più del monte paschi e questo politico è silvio berlusconi monte dei paschi è la banca che ha finanziato berlusconi in quasi tutte le sue imprese da milano 2 milano 3 le varie costruzioni che ha fatto e la banca che ha salvato mediaset dal fallimento è la banca che ha sempre supportato berlusconi monte paschi era una banca della p2 insomma fino a fino a che non sono stati scoperti gli elenchi non a caso berlusconi nonostante tutti gli scandali che hanno colpito il monte dei paschi non ha mai detto una parola non si è mai accanito ed era molto semplice accanirsi sul monte paschi e sul pd ma non l'ha mai fatto perché insomma sa bene che forse la cosa si potrebbe ritorcere contro di lui o comunque se il monte paschi andasse a rotoli lui sarebbe il primo a rimetterci circa le responsabilità degli organismi di controllo quindi banca d'italia e consum cosa possiamo dire che non hanno fatto il loro lavoro ma per nulla che loro hanno perfettamente informati tutto quello che stava accadendo erano informati delle acquisizioni informati delle varie transazioni finanziarie c'erano state hanno autorizzato ogni cosa erano informati del del bilancio farlocco e del dei gravi problemi del monte dei paschi non hanno fatto niente anzi nell'epoca in cui era governatore mario draghi della banca italia è la persona che ha favorito maggiormente la l'acquisizione da parte del monte paschi di anton veneta che poi è stata la diciamo l'evento che ha segnato l'inizio della fine della banca e grazie a quell'acquisizione draghi ha preso un ascensore fino per arrivare alla alla bce quindi diciamo che ciascun personaggio dei vari controllori ha avuto dei suoi benefici perfino la persona che era incaricata perché la direttrice del istituto di vigilanza banca italia che ha anna maria taranto lei è stata promossa presidente della rai il la persona che nel tesoro si occupava di queste cose saccomagna sono fatto ministro posso continuare cioè tutti quanti quelli che hanno che hanno che dovevano controllare le vicende del monte paschi hanno grilli era un altro di questi e anche lui diventava ministro sono stati tutti antipromossi tutti quanti hanno avuto dei vantaggi lo stesso presidente del monte paschi mussari è stato eletto presidente labbi dopo tutto il disastrica combinato con il monte paschi e così via molti creditori insolventi e tra questi diverse società riconducibili a famosi imprenditori italiani che idea si è fatto che in generale banche italiane sono banche funzionali alla politica è un certo tipo di imprenditoria anche perché gli imprenditori stanno dentro le banche vicepresidente del monte paschi era calta girone tanto per fare un nome il per quanto riguarda il monte paschi c'è in più un aspetto ovvero il monte paschi essendo un una banca sui generis perché una banca apparentemente molto territoriale è la banca che ha sorretto un'intera provincia anzi diciamo un'intera regione però in particolare l'intera provincia di siena cioè la provincia di siena che è sempre stata una delle province più ricche d'italia lo era perché il monte paschi regalava soldi regalava soldi a chiunque e quindi anche a tantissimi imprenditori allora ci sono ovviamente hanno beneficiato dei prestiti degli investimenti del monte paschi benedetti e tanti altri personaggi ma è impressionante come ci sono realtà più piccole comunque hanno avuto un loro valore la squadra di calcio di siena riceveva 20 30 milioni l'anno dal monte paschi a fondo perduto praticamente ed è stato uno dei motivi per cui il monte paschi si è poi trovato in difficoltà economiche e beh è come se una squadra di calcio qualsiasi di serie A ha dei soldi in più che non si sa bene dove gli arrivino la squadra la cosa più clamorosa è stata la squadra di pallacanestro e la menzana e la menzana riceveva più o meno 20 25 milioni l'anno per una squadra di basket è tantissimo non è un caso che la menzana ha vinto 8 campionati di fila è entrata tra le prime 4 squadre europee di basket ha dominato il torneo di basket e il suo presidente diventava presidente della feder basket o comunque doveva diventarlo e addirittura si è arrivati al punto in cui era il monte dei paschi che trattava i giocatori per la menzana faceva i contratti faceva due tipi di contratti un contratto ufficiale e uno parallelo in cui dava i soldi in nero e andandoci a perdere un sacco di soldi perché alla fine il monte paschi ci ha perso un sacco di soldi quando il monte paschi ha smesso perché era sostanzialmente fallito ha smesso di regare i soldi sia la menzana che la robur che la squadra di calcio sono fallite entrambe perché non avevano diciamo le loro fortune si basavano sul nulla su un specie di soggetto molto ricco che era la mps che gli elargiva e gli regalava soldi ogni anno diciamo queste sono le cose più clamorose ma ce ne sono tantissime però è proprio il sistema il sistema è la fondazione controlla la banca la banca fa affari suoi ma la fondazione controlla la banca è ricchissima perché la fondazione regala soldi a chiunque quindi la fondazione doveva essere sempre inattivo sempre anzi la banca doveva essere inattivo e quindi la fondazione doveva essere inattivo perché doveva regalare soldi e il motivo principale perché a un certo punto il monte paschi incomincia a indebitarsi oltre ogni limite cioè non esce dalla situazione di risoluzione del problema Anton Veneter e così via ma continua a indebitarsi perché falsifica i bilanci indebitandosi perché deve essere sempre inattivo perché la fondazione deve regalare soldi a destra a manca insomma è una storia quella del monte paschi la più singolare tra le banche italiane ed è anche secondo me l'esempio di come ha funzionato male questo paese negli ultimi 30 anni un filo di mistero avvolge il monte paschi di Siena con diverse morti sospette la vicenda del monte paschi ha anche un risvolto diciamo macabro io andando a indagare ho incominciato a pensare ma questa è ustica non è il monte paschi perché c'è una fila di suicidi di suicidi insomma di suicidi improbabili insomma di persone italiane e straniere che hanno avuto a che fare con il monte paschi in particolare hanno avuto a che fare con la fusione di Anton Veneta e con i derivati che il monte paschi ha voluto creare per risolvere i problemi di bilancio che aveva creato con la fusione di Anton Veneta e quello che in realtà non sono riuscito a capire nel senso abbiamo capito abbastanza tutti i meccanismi insomma ci sono stati dietro ma non siamo riusciti a capire cosa ha spinto poi queste persone a suicidarsi perché non solo una sono tante per arrivare a suicidarsi o spingere qualcuno a spingerti a suicidarti o addirittura essere uccise da qualcuno perché c'è anche questa possibilità molto concreta vuol dire che diciamo gli interessi che si andrà a toccare sono altissimi allora l'unica cosa che mi è chiara è che il monte paschi si andava a infilare in un gioco molto più grande di lui noi parliamo sempre della meno quando si parla del monte paschi di questa acquisizione della banca Anton Veneta nel 2008 che è stata strapagata valeva poco più di 2 miliardi e è stata pagata 17 quindi insomma una cosa fuori dal mondo per la cui acquisizione probabilmente partiva una tangente di quasi 2 miliardi insomma una tangente enorme non si è mai vista una tangente del genere in Italia però in realtà quella cosa lì è all'interno di una enorme operazione bancaria finanziaria la più grande operazione bancaria della storia nel mondo e che riguardava le due più grandi banche europee cioè il banco di Santander e la Royal Bank of Scotland la più grande banca del Belgio che è Fortis e la settima banca mondiale che è a BN Ambro che è anche la principale banca olandese queste tre banche si sono volute comprare a BN Ambro che è la proprietà di Anton Veneta e tutte quante queste banche sono fallite tutte la BN Ambro, Fortis, Royal Bank of Scotland l'unica che non è fallita cioè è assurdo che tre banche banche così grandi decidano di fare questa operazione gigantesca essendo coscienti o comunque con altissima probabilità di fallire cioè di far fallire proprio le banche quindi già è strana questa cosa sono fallite tutte l'unica banca che non è fallita è il banco di Santander perché ha sostanzialmente scaricato il suo MPS attorno al pollo che era Mussari e tutta la politica italiana che gli andava presso e ha scaricato il suo MPS Anton Veneta che era la parte che l'aveva fatta fallire quindi è fallita MPS al posto di Santander Santander Opus Dei ne è uscita indenne anzi più ricca di prima perché ha avuto una serie di banche in Sud America e così via tutte le altre sono fallite dalla prima all'ultima ed è una cosa si sta parlando di un'operazione da 72 miliardi un'operazione gigantesca e questa operazione era supervisionata da Draghi tutta l'operazione e lui lo lascia da fare ma nonostante questo non sono la parte di Anton Veneta tutta quanta l'operazione supervisionata da Draghi e lui è stato eletto presidente dell'ABC vorrei capire quali sono quello che non si riesce a capire quali sono i vantaggi per tutti quanti questi soggetti di fallire e diciamo dei banchieri europei di nominare Draghi il loro presidente dopo tutto il casino che ha combinato evidentemente c'è qualcosa che noi non sappiamo ed è magari anche il motivo per cui sono morte tutte e tante queste persone grazie